ciao benvenuti nella splendida cornice del casino di monte carlo no della mia stanza dei peccati non so se si usi questa espressione anche in altre parti d'italia però è il modo per definire un luogo dove c'è di tutto e dove io lavoro anche il fondale sempre un po diciamo un po brutto però ci sto lavorando sopra soprattutto sto pensando di mettere finché non sarà tutto a posto perché qui si tratta di spostare molte cose di mettere probabilmente un paravento qualcosa che nasconda scusate allora oggi vorrei mostrarvi come utilizzare un trapano un trapano a mano un trapano elettrico un attrezzo tipo dremel per creare dei pezzi wire molto utili nella tecnica wire che prima o poi si è obbligati a fare a sperimentare comunque ovvero faremo una spirale di filo sottile può essere anche non troppo sottile ma comunque una spirale di filo avvolta attorno ad un corpo centrale ad un'anima centrale di filo più spesso più spesso questa tecnica che la tecnica tecnica molto semplice di avvolgimento per creare una spirale continua è molto facile facilissima però presenta comunque dei punti critici nel senso che se dovete spirala spiralare termine pazzesco un metro di filo ad esempio impiegate probabilmente qualche ora ed è molto stancante anche per le mani per le braccia se avete infiammazioni ricorrenti come capita a me che ormai faccio wire da tanti anni e ho qualche problema alle mani e insomma è utile trovare un mezzo diverso voi sapete che esiste un sistema anzi no proprio un attrezzo sul mercato che si chiama coiling gizmo attrezzo molto semplice anzi un giorno vi mostrerò come crearne uno a casa da non lo dite a nessuno però come creare un coiling gizmo simil per i fatti vostri sempre che prima non mi rubino l'idea questo queste settimane e questo attrezzo è molto semplice e riesce a facilitare la lavorazione dei pezzi spiralati però possiamo utilizzare una cosa che abbiamo in casa tutti che il trapano io ho il classico trappanone trappanone ragazzi il senso buono allora questo è il trapano che useremo senza punte quindi non abbiate paura di utilizzare il trapano perché so che ci sono molte donne che non si fidano ma in realtà una cosa semplicissima potete utilizzare anche il trapano quello che sta in piedi questo modo perché sapete al cassetto quindi può andare con le pile anzi abbastanza comodo oppure anche un trapano a mano oppure ancora il dremel il dremel purché sia possibile regolare la velocità perché utilizzeremo il trapano o il dremel alla velocità minima ok detto questo possiamo procedere vi mostro come si fa e buon tutorial allora questo è il trapano che va tenuto di piatto sul tavolo da lavoro questo è il mandrino ok nel quale bloccheremo il filo che farà da anima centrale di questo lavoro da sostegno in pratica è il filo di avvolgimento che nel mio caso è questo filo quindi andremo a bloccarle qui dentro due parole sul rapporto dimensionale tra questi due fili è importante che il filo che fa da interno da ossatura sia più spesso del filo di avvolgimento che è quello che creerà l'elica in sostanza perché per una questione di sostegno di buon sostegno della struttura e anche per un fatto estetico se vogliamo però ricordate che c'è sempre la possibilità di sperimentare e di creare eventualmente anche disegni nuovi e questo è il bello del wire allora vi dicevo dobbiamo bloccare i due fili questo è un filo da 0,4 e questo è un filo da un millimetro potevo utilizzare anche un filo da 0,6 0,8 purché fosse un po inferiore al filo da un millimetro ok l'importante è questo non c'è una regola precisissima allora adesso mi raccomando prima di inserire il filo quello più spesso nel mandrino fate in modo che sia abbastanza diritto ok altrimenti poi diventerà difficile lavorarci sopra e anche questo filo non deve avere diciamo non deve essere diritto quello di rivestimento però non deve avere comunque delle pieghe delle pieghe evidenti ok adesso infiliamo queste due estremità che io ho appaiato come vedete l'estremità del filo dei due fili all'interno del mandrino leggermente aperto ora questo potrebbe richiedere uno due tentativi a volte anche di più perché naturalmente bisogna trovare il modo di bloccare entrambi i fili qualche volta riesce subito e qualche volta bisogna riprovare una cosa importante il filo maggiore quello più spesso deve essere ben centrato nel foro del mandrino ok dopo avere bloccato per bene il mandrino e avere fermato qui dentro i due fili possiamo cominciare ad avvolgere ok allora teniamo fermo il trapano andiamo cerchiamo di andare piano i primi giri saranno quelli un po più difficili ma li facciamo a dare anche un po lassi un po aperti ok allora il pollice serve di accompagnamento è quello che ci aiuterà a sviluppare poi l'elica tutto attorno al filo e a trattenere anche un po il filo prima che se ne vada da tutte le parti allora primi giri sono un po tentativo e poi dopo diventa l'elica si trasforma diventa regolare possiamo però vi voglio mostrare che possiamo sempre avvicinare recuperare per non sprecare filo se volete potessete potete sempre avvicinare quest'elica in questo modo con le mani o con una pinza vedete recuperare lo spazio e stringere i giri che siano rimasti troppo aperti poi vado avanti insomma ho stortato un po il filo ma va bene vado avanti piano piano per avere il controllo di quello che sto facendo poi magari più avanti sarà più facile continua in questa maniera quindi se per caso i giri si aprono un po sotto le vostre mani voi potete fermarvi fermatevi subito sennò poi non recuperate stringete i vari giri dell'elica e poi ricominciate a lavorare poi piano piano come vedete la mano sinistra o quella non dominante deve accompagnare l'elica verso l'esterno e formarsi dell'elica verso l'esterno io qui avrei finito vedete allora dunque adesso guardate il mio lavoro potrebbe essere terminato qui cioè io avevo bisogno di rivestire un filo con un altro filo come vedete il lavoro è terminato però da qui si può partire per creare una cosa diversa per creare una perla così si chiama in wire cioè in metallo quindi diventa un'altra cosa di fatto per creare una perla in metallo devo fare slittare fuori l'elica ed utilizzare questa parte mentre non avrò più bisogno del corpo centrale allora bisogna fare in questa maniera allora io stacco il filo il filo di rivestimento ok lo stacco da qui e faccio scivolare fuori questo avvolgimento sì ovviamente un pochino sì sì facciamo così si blocca sempre è normale adesso taglio l'ultima parte vedrete che uscirà facilmente ok in questa maniera vedete posso anche togliere questo filo che adesso non mi serve più tolgo da qui allora guardate quest'elica adesso va rifinita leggermente va rifinita all'estremità io lo farò velocemente voi lo farete più piano e anche con più attenzione cioè tolgo l'estremità l'ho fatto un po grossolanamente ma per intenderci ecco va fatto in questa maniera insomma praticamente va tolto all'ultima parte dell'elica nella spirale in questo modo quindi immaginiamo davvero fatto molto bene allora questa è l'elica adesso la recupero devo infilarla con un filo sottile ok questo diventerà il filo di avvolgimento in sostanza quindi l'avvolgo con un filo sottile può essere 0,6 può essere 0,4 io vediamo utilizzo ho un filo da 0,4 utilizzerò questo vedete diventerà in questo modo il mio filo di avvolgimento sarà questo un filo lungo da 0,4 nel mio caso e poi l'elica allora adesso come filo centrale quello che a me serve per l'avvolgimento devo utilizzare un filo caduto eccolo qui abbastanza spesso che tenga cioè che tenga quest'elica quindi non posso usare un filo molto sottile io ne ho trovato uno questo è ottone ma insomma non importa che sia di ottone abbastanza spesso sono un millimetro è un millimetro virgola 2 virgola 3 ok anche questo filo deve essere diritto lo blocco ancora una volta con il filo di avvolgimento tolgo un secondo l'elica se non riesco a farlo quindi lo blocco insieme al filo di avvolgimento ok posso fare così in questo caso qui le dimensioni sono un pochino le larghezze sono un pochino più agevoli da inserire nel mandrino dovrei avere meno difficoltà però insomma eventualmente si fanno delle prove si fanno delle tentative questo è il punto in realtà più critico se vogliamo della lavorazione è quello di bloccare i due fili allora centro del foro del mandrino ok qui sembra un po spostato comunque poi faremo la prova poi stringiamo il mandrino anche a mano e senza bisogno delle delle pinze delle pinze per stringere delle chiavi ecco non mi veniva allora sembra che sia bloccato discretamente ok allora procedo come prima devo infilare l'elica che è la spirale come volete chiamarla in questo modo lo faccio scorrere un po verso giù alcuni giri qui saranno anche qui di ecco allora di di finitura in realtà ora capirete perché ok mi faccio un po e poi comincio ad avvolgere sul filo centrale l'elica vera e propria adesso qui potrei avere qualche piccola difficoltà perché è un po rigida rigido questo punto quindi magari accompagno con le dita l'avvolgimento giusto per il primo giro è a doppiano più possibile col trapano ok e adesso dovrebbe andare molto meglio continuo così vedete si forma un'altra elica anche l'ultimo giro dell'elica è un po delicato quindi sto attenta lo trattengo con le mani poi continuo per fare per finire ho finito anche questo caso prima di fare scorrere fuori quest'altra elica avvicino tra di loro i giri vediamo se riesco a farlo ancora da qui normalmente è meglio farlo subito al momento ma ce l'abbiamo fatto abbiamo recuperato allora di nuovo stacco il filo di avvolgimento dal filo centrale lo faccio scorrere in questo modo vedete devo rifinire ancora la rifinitura la faccio sempre un po velocemente comunque si fa così ecco in sostanza dovete tagliare da una parte dall'altra diciamo che è fatto bene vedete guardate già in questo modo infilato ad esempio su un filo può diventare qualcosa questo pezzo oppure potete continuare sempre utilizzando un filo sottile come quello che ho utilizzato io il filo da 0,4 e ripetendo l'operazione vale a dire bloccando il filo di accompagnamento e ripetendo questa operazione guardate si ottiene un pezzo di questo tipo vedete diventa un'altra cosa di fatto io ho utilizzato delle diciamo dei fili abbastanza corti ma questo pezzo può diventare molto più grande e abbinato ad altri pezzi immaginate che siano fatti alla stessa maniera può diventare vedete sembra una perla come sembra una perla anche questa cioè un componente per fare un altro pezzo e può diventare una collana può diventare un bracciale può diventare quello che volete questo per non per darvi la base di quello che è possibile fare con questo tipo di lavorazione che spero vi ispiri altre lavorazioni ed altre fantasie ciao a presto